eccomi qua sono ritornato oggi la prima ricetta che vi presentiamo sono le lagane fatte a mano con i ceci vi presento la mia regina mamma nonna Alessandrina la regina della cucina ecco qui si parte da un impasto veloce di farina senatore cappelli farina acqua è semplicissima non ci vuole molto per farla questo è l'impasto veloce della lagana laganea e ceci in piatto tipica bellinese adesso prendiamo il matterello mi raccomando la farina da utilizzare farina senatore cappelli la migliore e l'elasticità della pasta e soprattutto profumi dell'irpinia allungala 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 di più ecco qua e adesso la lavori più liscia deve diventare questo è un faccioletto tagliato rotondo per poi fare la lagana questa è la lagana perfetto siamo giun di quasi alla prima fase alla prima fase eccolo qua prima prima è la metterla a bagno la sera prima i ceci poi la mattina si mettono a bollire che sono così una volta bolliti una volta bolliti e poi passiamo ai fornelli prezzemolo fresco sempre un po' di ceci pomodoro fresco di grotta minarda l'irpinia in tavola dal salumiere mi raccomando tuteliamo il territorio si sbollentano le lagine il porchettone schiacciato i ceci i ceci vogliamo prendere un po' di sapore e allora l'impiattamento siamo pronti aia scotta mamma mia piatto caliente proprio appuntamento alla prossima non si parla col boccone in bocca ma ve lo dico alla prossima ricetta mmmm Grazie a tutti.